La MAEMA 2010 per presentare le novità tecniche premiate da una coma. Ecco la novità tecnica di Arrizza Giuseppe. Si tratta di un dispositivo di sollevamento utensili per lavorare il filare in maniera alternata e o una o entrambe le zone interfilari. La motivazione del riconoscimento di Novità Tecnica 2010 è che la realizzazione permette di aumentare la flessibilità di questo tipo di macchina, garantendo una riduzione della potenza assorbita e quindi un minore impatto ambientale. Aumenta le possibilità di uso della macchina evitando l'acquisto di più attrezzature. Le caratteristiche. Attrezzo per la lavorazione del terreno in aree coltivate a filari, avente la possibilità di eseguire lavorazioni sia sui filari stessi che sulle zone interfilari oppure sulle sole zone interfilari. L'attrezzatura è infatti un sistema porto utensili centrale sollevabile che può essere comandato indipendentemente dai porto utensili laterali.